Anticipazioni Terra Amara, dove vedremo Akan con Kadir, che risponde alle domande riguardo a Demir, affermando che lui non è il tipo che si arrende facilmente. Kadir avverte che se Demir tornasse, lo affronterebbero e gli sottrarrebbero tutto, terra, lavoro e persino il cuore della moglie. Akan, però, scettico, chiede a Kadir se sia ubriaco, preferendo allontanarsi anziché rispondere. Nel frattempo, Fekeli e Luce si trovano nella stanza dei bambini, dove Fekeli gioca con Adnan. Fekeli afferma che è stata una buona idea portare anche Kerem lì per farlo stare con i fratelli. Tuttavia, Luce suggerisce che è ora di lasciare la villa per evitare i pettegolezzi su Fikret e Zuleya. Fekeli rassicura Luce che presto troveranno una casa adatta, mentre Zuleya parla con Sani e proponendo l'organizzazione di una festa della circoncisione, seguendo le tradizioni di Unkar. Nel giardino, Fikret esprime il suo disagio riguardo alla visita di Akan a Zuleya a Cetin. Cetin lo rassicura sulla sicurezza dei bambini e promette di rimanere per controllare la situazione. Fikret e Fekeli decidono di tornare a dormire a casa loro per evitare pettegolezzi. Nel frattempo, Zuleya e Sani si recano al villaggio per annunciare l'organizzazione imminente di una festa della circoncisione. Seguendo le tradizioni di Unkar e mantenendo la speranza del ritorno di Demir, Cetin si avvicina alla cucina dove Gulten sta occupandosi delle faccende domestiche. Esprime le sue preoccupazioni riguardo alle voci che circolano in paese su Zuleya e Fikret. Gulten risponde che una volta che Demir tornerà, tutte le male lingue saranno zittite. Cetin manifesta il suo dispiacere per le insinuazioni su Fikret, descrivendolo come una persona di buon cuore che si prende cura di tutti. Nonostante il suo impegno nel cercare Demir incessantemente, le persone invidiose alimentano cattiverie, insinuando Mire su Zuleya, nonostante sia la moglie del fratello. Quando Zuleya e Sani arrivano al villaggio, vengono accolti festosamente dagli abitanti. Annunciano la prossima cerimonia di circoncisione per i bambini, suscitando gratitudine generale. Una donna anziana esprime la convinzione che Dio ricompenserà Zuleya per la sua bontà, facendo ritornare Demir. Akan, affascinato dalla bellezza di Zuleya, riflette sui momenti passati con lei. Mentre Fikret, dopo aver verificato il sicuro ritorno di Zuleya alla villa, ricorda l'abbraccio fraterno di Demir. Zuleya, pensierosa e triste, riflette sui momenti felici trascorsi con Demir e guarda i suoi figli con angoscia, chiedendosi dove possa trovarsi Demir. Il giorno successivo, Ficheli si trova al circolo con uomini d'affari di Kukurova, i quali gli chiedono conferma sulla partnership di Mehmet Cara con gli Yaman. Ficheli conferma che Mehmet ha acquisito il 25% delle azioni vendute da Zuleya. Akan fa il suo ingresso nella sala, dichiarandosi come Mehmet Cara. Tutti si avvicinano per salutarlo, e Ficheli, presentandosi, sorprende Akan, che esita prima di stringere la mano a causa dell'investimento sul fratello. Gli altri presenti, desiderosi di saperne di più su di lui, gli chiedono i suoi interessi. Akan rivela il suo interesse principale nella coltivazione degli agrumi e la sua recente partnership con la Holden Yomen. Tuttavia, quando gli suggeriscono di assumere la direzione della holding in assenza di Demir, Akan rifiuta, elogiando il lavoro di Zuleya e notando la somiglianza con la defunta Unkar, suscitando commozione in Ficheli. Akan, osservando Ficheli, nota la sua emotività, e gli chiede se avevano un rapporto intimo. Ficheli risponde che Zuleya ha un posto speciale nel suo cuore, affidandogli la gestione degli Yaman, e lui ama sia Demir che Zuleya. Akan, colto dall'invito di Ficheli a cena quella sera, accetta. Nel frattempo, Kadir pranza con Betul, discutendo di lavoro. Le chiede dettagli sul trasporto della merce, e Betul elenca tutti i mezzi di trasporto e macchinari dell'azienda Yaman. Kadir la loda per la sua memoria e intelligenza, proponendole di far riparare i camion nella sua officina e abbandonare quella vecchia. Betul, preoccupata delle reazioni di Ergan, suggerisce di aspettare, ma Kadir la rassicura di lasciare che Ergan faccia rapporto più tardi. Akan, durante un incontro con Kadir, scherza sulla emotività di Ficheli, menzionando un car. Kadir risponde affermando che Ficheli non ha capito che perderanno tutto, suggerendo anche di far fuori Ficheli durante la cena, senza compromettere i freni della sua auto. Akan approva e incarica a Kadir di organizzare tutto. Alla cena al circolo, Ficheli è in compagnia di Zuleya, Betul e Fikret. Il quale, infastidito, chiede se quella cena fosse davvero necessaria. Ficheli risponde affermativamente, spiegando che solo attraverso il dialogo possono capire se Akan è un uomo onesto. Raccomanda a Fikret di rimanere calmo per raggiungere il loro scopo. Poco dopo, Akan fa il suo ingresso, salutando Ficheli e rimanendo incantato dalla bellezza di Zuleya, elegantemente vestita di bianco. Durante la cena, Akan rivela di provenire da Sparta, dove possiede una fabbrica di cosmetici e ha diverse attività anche a Istanbul. Sottolinea il suo interesse principale nella logistica, possedendo un gran numero di camion, e confessa il desiderio di investire a Kukurova da tempo. Poco dopo, Fikret riceve una chiamata da Cetine, al suo ritorno al tavolo, informa agli altri che uno dei loro magazzini è stato allagato. Annunciando la necessità di controllare la situazione immediatamente, Zuleya aggiunge che anche loro hanno avuto un allagamento in un capannone. Betul, sorpresa di come Zuleya sia venuta a conoscenza della situazione, viene informata da Zuleya dei dettagli delle operazioni aziendali. Nel frattempo, Sermin, venuta a sapere della cena a cui non è stata invitata, si presenta elegantemente vestita, sorprendendo tutti. Dopo aver rimproverato Zuleya per non averla aspettata, Sermin si rivolge a Akan presentandosi come Sermin Yaman, madre di Betul. Le spiega che è rassicurante sapere che ha acquistato le azioni della loro azienda, temendo che avrebbe potuto farlo Akan Gumusoglu. Akan, fingendo ignoranza, chiede chi sia quell'uomo. Sermin rivela immediatamente che è l'uomo che ha assaltato la loro villa e cercato di ucciderli tutti. Nonostante Betul cerchi di zittirla, Sermin continua, imbarazzando gli altri presenti. Akan, incuriosito, comincia a fare domande, e Fecheli inizia a raccontare la storia di Demir e quell'uomo che avevano una società insieme quindici anni prima. Sermin interrompe Fecheli, rivelando che Demir aveva investito tutti i soldi nella società, mentre quell'uomo non aveva un centesimo. Unkar non voleva che Demir collaborasse con un ragazzo con cui aveva vissuto all'università. Demir aveva affidato la gestione dell'azienda a quell'uomo, un incapace che aveva fatto fallire l'impresa, rovinando anche lei. Akan scoppia a ridere ma riesce a giustificarsi. Nel frattempo, dopo aver ispezionato il danno al capannone, Fikret dice a Cetin che non è sufficiente conoscere Mehmet solo attraverso una cena e trova strano che, dopo che tutti avevano cercato un acquirente per le azioni, si è apparso Mehmet, investendo in molte attività a Kukurova. Cetin riferisce di aver saputo da Gulten che Mehmet ha conferito a Zuleya il diritto di firma al suo posto. Fikret risponde che la situazione è molto strana e che non si fida delle presunte buone intenzioni di Mehmet. Nel frattempo, durante la cena, Sermin, apparentemente inarrestabile nonostante l'imbarazzo circostante, continua a parlare. Afferma che Akan aveva inviato il fratello per uccidere Demir, ma Ficheli lo aveva investito accidentalmente. Ficheli, turbato da quel doloroso ricordo, conferma che il rimorso lo tormenta costantemente e avrebbe preferito essere lui a morire al posto di quel giovane uomo. Racconta che, dopo l'incidente, aveva chiesto a Fikret di recarsi da Demir a Esmir per chiedere come potessero riparare all'accaduto. Tuttavia, avevano scoperto che Demir aveva lasciato la Turchia. Ficheli rivela di essersi poi consegnato alla giustizia, attualmente in attesa della decisione del giudice e pronto ad affrontare la prigione. Pieno di rimorso, Ficheli confida che se dovesse incontrare Demir e quest'ultimo volesse ucciderlo, è pronto a morire per espiare la sua colpa. Nonostante l'incidente fosse stato causato dal caso, la coscienza di Ficheli continua a tormentarlo. Le parole di Ficheli colpiscono profondamente Akan, tanto che si alza dal tavolo e si allontana con una scusa. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate? Allora scrivisi nei commenti, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!